Chi è che non ha mai sentito parlare di criptovalute? E se vi dicessi che crearne una da zero non è poi così difficile? Che mi direste? Ovviamente non serve dirlo, ma una criptovaluta deve avere un progetto alle sue spalle, altrimenti non serve a niente e nessuno la comprerà mai. In questo video però voglio farvi vedere come crearne una e gestirla. Quello che sto per farvi vedere è il progetto che portai al mio esame di maturità. Vi lascio il mio link di GitHub qui sotto in descrizione, così che possiate scaricare questi due file. Utilizzate quest'icona per caricare due file su remix.ethereum.org, lo stesso sito che vi ho fatto vedere per caricare 10.000 nft su OpenSea. Se vi siete persi quel video ve lo lascio nelle schede. Una volta importati cliccate irc20token.sol e lo compilate. Vi apparirà questa cartella con i file compilati. La potete chiudere, cliccare sul secondo file e compilare anche questo. È normale che qui vi dia tre warnings. Ora vi spiego un po' il funzionamento di questa criptovaluta. Con mapping possiamo mappare tramite la funzione balance off quanti token ci sono in un determinato indirizzo. Questa è la funzione balance off che vedremo tra poco. Mentre qui sotto, sempre tramite mapping, possiamo vedere quanto possono spendere degli indirizzi dall'indirizzo padre. Qui vengono dichiarati il proprietario, la total supply, il nome, il simbolo e decimale della criptovaluta. Nel costruttore vengono passati questi valori ed inoltre alla variabile owner viene assegnato il message sender, ovvero la persona che farà partire questo contratto. Quindi chiunque farà partire questo contratto sarà riconosciuto come proprietario. Qui abbiamo la funzione message sender che non fa altro che essere il contenitore della variabile message sender. Abbiamo il nome, il simbolo, i decimali e la total supply della criptovaluta. E poi abbiamo la già citata funzione balance off, la quale permette a portafogli come Metamask di visualizzare quanti token ci sono al suo interno. Poi abbiamo la funzione transfer che permette al proprietario dell'account di inviare ad un altro account un certo numero di token. Poi abbiamo la funzione allo once dove l'owner permette allo spender di spendere un certo numero di token. Qui sotto abbiamo la funzione approve dove il proprietario di un account permette allo spender di spendere un certo numero di token. Poi c'è la funzione transfer from dove il proprietario invia al ricevente un certo numero di token. E qui vengono fatte tutte le verifiche. Infatti il numero di token che devono essere inviati devono essere minore o uguali a quanto la persona che vuole inviare ha sul suo wallet. Se così non fosse apparirà il messaggio, la quantità inserita eccede rispetto a quella posseduta. Poi ci sono queste altre due funzioni, increase allo once e decrease allo once, che magari potremo vedere se vi interessa in un altro video perché non ci interessa ai fini di questo video. Qui abbiamo la funzione transfer dove il proprietario invia al ricevente un certo numero di token. E qui vengono fatti tutti i controlli del caso. Infatti si vede come il bilancio di chi invia deve essere maggiore o uguale a quanto ha sul conto. Altrimenti apparirà il messaggio che quanto si cerca di trasferire eccede rispetto al bilancio. E qui sotto al bilancio di chi invia viene sottratto l'amount e al bilancio di quello che riceve viene aggiunto l'amount. Qui sotto abbiamo una cosa molto importante, il modifier only owner, che permette di utilizzare alcune funzioni di questo contratto solamente all'owner. Altrimenti apparirà questo messaggio, non sei il proprietario del contratto. E poi qui sotto abbiamo la funzione mint, ovvero il cuore della nostra moneta. La funzione che ci permetterà di creare i token. Scusate il preambolo, ma ritengo che sia molto importante sapere cosa si sta andando a fare effettivamente. Adesso possiamo andare qui, selezionare InjectWeb3, che prenderà direttamente il network al quale siamo collegati su Metamask. Io lo faccio sulla rete rink e bidiprova, ma volendo si potrebbe fare anche sulla rete reale di Ethereum. Qui sotto in contract dovrete scegliere ERC20, non IERC20. Ed ora possiamo dare un nome e un simbolo alla nostra criptovaluta. In questo caso Tommaso Token e TTK. Una sigla. Clicchiamo su Transact, confermiamo e attendiamo le classiche verifiche di rito. La transazione è andata a buon fine. E adesso andando qui sotto potremo copiare questo contratto, aprire Metamask, cliccare su Import Tokens ed incollare il contratto. Come vedete il simbolo del token viene trovato da solo. Clicchiamo su Add Custom Token e poi importiamolo. Ecco che nella schermata principale di Metamask troviamo il nostro token, però non esiste ancora nemmeno uno. Quindi torniamo su Remix, clicchiamo questa freccetta e qui sotto troviamo tutte le funzioni. Per creare dei token ci serve la funzione Mint. Clicchiamo anche qui sulla freccetta e ci chiede il nostro indirizzo e il numero di token da creare. Torniamo su Metamask, copiamo l'indirizzo, lo incolliamo qui e adesso io decido di mettere 1000 token. Confermo la transazione e aspetto anche in questo caso le verifiche. Volendo potremo anche controllarle su Etherscan. Ecco che la transazione è andata a buon fine. Infatti se scendessimo qui sotto e cliccassimo su Total Supply vedremo come ne esistono 1000. E se aprissimo Metamask questi 1000 li avremo noi. Ora mi sono mintato altri 2000 token e vediamo cosa succede se proviamo ad inviarli ad un altro account. Andiamo in Transfer, mettiamo l'indirizzo e selezioniamo 1000, ovvero la metà. Clicchiamo su Transact, confermiamo e aspettiamo le verifiche. La transazione è andata a buon fine e vediamo su Metamask che quest'account che aveva 0 token ora ne ha 1000 e che l'account principale da 2000 ne ha 1000. Ovviamente però non serve usare sempre il contratto. Potremmo fare la stessa cosa semplicemente andando nel nostro account, inviare, mettere quell'indirizzo e decidere di mandargli, non lo so, 500 token. Ecco che l'account principale ora ne ha 500, mentre l'account secondario ne ha 1500. La cosa bella è che essendo una criptovaluta realmente funzionante, possiamo usarla su più piattaforme. Infatti da telefono importiamo il token, incollando sempre quel contratto. Ci trova da solo il simbolo e lo importiamo. Vedete come anche qui ci sono 0 token ed incollando sull'account Metamask di prima l'indirizzo del wallet mobile decido di inviare tutti i token ed ecco che sull'account browser non c'è più nulla mentre sul wallet mobile sono apparsi i 1500 token. Ed anche questo video giunge al termine. Fatemi sapere qui sotto nei commenti se qualcosa non è stato chiaro e lasciate like, iscrivetevi al canale e attivate la campanellina per non perdervi i prossimi video. Io vi saluto e alla prossima. Ciao! Ciao!